Ciao a tutti amici di Videoradio Channel, sono Alex Carreri e sono un bassista e contrabassista. Da diversi anni mi occupo di didattica musicale e oggi vi parlerò del mio libro Basso Elettrico Jazz. Basso Elettrico Jazz è stato pubblicato dalla casa editrice tedesca Izuku Verlag ed è distribuito in Italia dalla Volontenko. Questo metodo è nato dall'idea di realizzare un progetto didattico specifico per il basso elettrico nel contesto jazzistico ed è suddiviso in tre volumi. Il primo volume affronta la tecnica di accompagnamento di base, quindi attraverso una serie di esempi di esercizi sui concetti armonici, sullo sviluppo delle abilità ritmiche e la pronuncia swing, ci guida per realizzare delle linee di basso in vari stili di accompagnamento. Quindi ad esempio suonare una linea di walking bass piuttosto che suonare su un brano in tre quarti o passare da una pronuncia swing a una pronuncia stride. È un supporto didattico abbastanza utile per i bassisti che si sono avvicinati da poco al mondo del jazz e vogliono affrontare uno studio strutturato e completo, ma anche per coloro che suonano già e vogliono approfondire alcuni argomenti specifici. Naturalmente essendo un'opera strutturata in maniera graduale e progressiva, può essere anche utile per tutti gli insegnanti di basso elettrico, sia per coloro che insegnano in scuola di musica, sia per i docenti del conservatorio. Il metodo contiene 233 tracce audio, quindi quasi la totalità degli esempi degli esercizi contenuti nel libro ed affianca lo studente per comprendere meglio gli esercizi pratici e le sfumature della pronuncia jazzistica. Un altro elemento interessante che contiene il libro è il prologo, cioè una parte introduttiva che riguarda tutti gli aspetti complementari a questo studio, quindi una breve storia del basso elettrico nel jazz, una discografia selezionata a partire dagli anni 50 fino ad oggi, una proposta di repertorio di standard suddivisa su vari livelli e in vari stili e la strumentazione utilizzata dai vari bassisti nelle varie epoche. Per chi fosse interessato, questo libro potete comprarlo su qualsiasi digital store o nelle librerie tradizionali. Per ulteriori informazioni potete contattarmi al mio sito all'indirizzo www.alexcarreri.com o sui miei profili Instagram e Facebook al nome utente Alex Carreri Music. Bene cari amici, un ringraziamento a tutto lo staff di Videoradio Channel e alla prossima. Ciao a tutti!